Buon saluto a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio della OneBlockSkyBlock Questa cosa ormai mi è entrata dalla testa e non riesco più a levarmola Infatti nel futuro mi sa che mi odia Che bel panorama abbiamo nelle nostre spalle Infatti si vede benissimo la luna mentre che tramonta Sì tramonta E il sole mentre che Che storge Sentite non ho mai capito sta roba Però sì tramonta So che è per il sole ma non so se si dice così anche per la luna Cioè ditemelo voi Io non lo so Vabbè in questo episodio probabilmente dobbiamo iniziare la nostra Anzi cercare di finirla Per modo di dire la base Della nostra statua perché Statua in sé non possiamo ancora farla A causa delle nostre risorse Perché non abbiamo materiali Cioè la lana rossa non ce l'ho La lana grigia non ce l'ho La lana nera non ce l'ho La lana rosa non ce l'ho E per questo andiamo a usare materiali tipo Cobleson Diorite Granito Andesite Legno E chi più ne ha ne metto Sentite Andiamo al video va Ciao Però prima di passare al video vi ricordo che se vi sto a un minimo simpatico Potete semplicemente iscrivervi col tastino rosso in basso alla mia destra E vi dareste un grande supporto Ma anche semplicemente Mettere un bellissimo like Che anche quello porta un grande supporto E detto questo mentre che penetro una pecora Andiamo al video va Eh Ma Ah eccoci qua ragazzi Allora Ok Ora dobbiamo solo iniziare a costruire la statua Perché principalmente Guardando la mia skin Siamo alla parte Un po' Più bianca della mia skin Perciò Usiamo La neve Perché allora Stavo pensando Che alla fine siamo nel momento in cui la neve La troviamo Ed essendo un materiale anche facilmente reperibile Perché basta scavare un po' la In confronto alla lana E soprattutto l'effetto che dà è spettacolare Se voi guardate Perciò Stavo pensando Usare la lana Oppure Sì la lana La neve Oppure anche la diorite Che anche la diorite è un po' più pixelata Cioè Diciamo un po' più texturizzata Però pur sempre quel bianco Molto bello Che può essere utile Io lo userei più per la pelle Però Questo lo vediamo quando raggiungo la testa Ora noi siamo lì Devo alzare di un altro blocco Questa Zona E In questa maniera Io dovrei aver fatto La prima parte della mia skin Ok La prima parte della skin è fatta Ora dobbiamo solo risalire E Al posto di usare Come vi ho già detto Il legno Andremo di Cobblestone Sperando che ci basta Se no passiamo alla gravel Se no passiamo all'andesite Perciò Facciamoci una scaletta E Doviamo salire Più o meno Di Cinque di qua E quattro di là Perciò Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Non saprei Sì facciamo tre Vediamo come viene Allora tre Ora Scendiamo Ripiazziamo Uno strato qua Uno strato Uno strato No dai Vabbè tanto si arriva alla scaletta Ora Una volta fatto Qui Allora Allora Piano Piano Allora Ok E così Dovremmo aver fatto Le gambe Sembra un po' Storto Ma non è come Sembra Non è mai nella vita La mia skin No no Non è mai nella mia vita La skin che ho io Però Ora dobbiamo andare Alla giacchetta Perciò Vediamo un po' Direi Di salire Di qua Con la dirt E di portarci materiali Sopra Perciò Prendiamo tutto Ok E saliamo Salendo Qua al centro Il busto Sarà fatto Di Cobbleson Perché alla fine Il centro del mio corpo È in Cobbleson Cioè Qua è Cobbleson Sarebbe nero Però non ci facciamo domande E lo alziamo Di sette Perciò Uno Due Tre Però non qua Qua già Siamo con un altro materiale Che è esattamente Questo Perciò Uno Due Tre Quattro Ok Uno Due Tre Quattro Fammi finire di piazzare Qua Devo chiudere Perché Pur sempre Vabbè Andiamo a Completare Questa zona È bruttissima È un incubo E al posto Delle maniche Ci mettiamo Il legno Di betulla Sta roba Verrà più Un incubo Cioè Me la sognerò La notte Cos'è Ma cos'è Vabbè Allora Proseguiamo Con la Cobbleson Perché è ancora Troppo bassa L'alziamo di due In questa maniera Dovremmo essere a posto E contorniamo Di legno Perché Perché abbiamo finito Il materiale principale Per fare il contorno Che era Il granito Ok Ora La mia skin In questo punto Preciso Ha una specie Di colletto Perciò La cobblestone Dovrà andarsi A mettere Uno qua Uno qua Lasciare lo spazio Al centro Che sarà Questo colore E poi Richiudere Tutto attorno Con Altro Legno Di quercia A questo punto Posizioniamo Le braccia Della skin In una maniera Molto semplice E Vichinga Perciò Piazziamo La mia skin Dove arrivano le braccia Leggermente Più sopra Perciò Facciamo Tipo Così Ok Perché ho voluto Fare sta stato Cosa sarebbe Cosa sarebbe Sta roba Vabbè Allora Saliamo Di qua Ok E ci andiamo A riprendere Questi due Per dare un po' Una sembianza Di braccia Anche se Non sono braccia Cioè È tutt'altro Che braccia E qua Ho pure sbagliato A piazzare il blocco E se cade Eppure è finita La tutto Allora Con calma Ci andiamo A riposizionare Più o meno Alla stessa altezza Anche dall'altro lato Così Qua Non dobbiamo Piazzarci il blocco Andiamo avanti Di due Prendiamo Uno Uno Due E tiriamo Giù fin qua E Le Anche le braccia Le abbiamo Finite Questa schiena Andiamo a merda Confermo A questo punto Semplicemente Rissaliamo sopra E con Allora La mia faccia È bianca È sbiadita Perciò Con il legno Di betulla Ci facciamo Una bella facciona Perciò Ok Così Sì Come vedere Ok Poi ci alziamo Il naso Cioè Il centro Della faccia Ai lati Ci mettiamo Della diorite Come occhi Qua Chiudiamo Con Dell'andesite Sì Andesite Che parte Da un blocco Più in alto Poi Gli occhi Se riusciamo Li facciamo Di dark oak Così Richiudiamo Anche qua Con questo Ne piazziamo Altri Due sopra Così Alla random E ora Con questo Materiale Andiamo a Richiudere Tutta la Mia faccia Perciò Scendiamo Così 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 Risaliamo Così Piazziamo Altri Due blocchi In questa maniera Molto Molto Discutibile Risaliamo Ancora Questo video In più Un tutorial Di come Creare Uno cinema Dell'orrore Che di Creare Una skin Facciamo A mod Di Cappella Sistina Qua Chiudiamo Di nuovo E Questo blocco Lo piazziamo Qua Giusto Perché No Gesù Santo Sono Più One Di Una Vecchietta E Diciamo Aspetta Allora Mi serve Mi serve Del material Mi scusi Mi La terra Me l'ha rubata Signora statua Questa terra È di mia proprietà Oh cazzo Levagli subito Levaglielo Dai ragazzi Guardateci Siamo due gocce D'acqua Siamo fratelli Divisi alla nascita Sì Siamo fratelli Divisi alla nascita Non vedete Cioè Siamo bellissimi Ma seriamente Cosa Minchia Mi sto dicendo Ma io Devo farmi Un corso Di come Cazzo Costruire Sono proprio Incapace A parte Gli scherzi Dai Pensavo Che sarebbe Venuto Un po' Peggio Alla fine Un minimo Di decenza Ce l'ha Proprio Minimo Ma proprio Minimo 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 E a sto Punto Direi di tornare a scavare Che è meglio Piuttosto che Costruire Sti giochi Ste cose Horror Oh Sta arrivando da voi Pecorelle Fra poco potrete Darmi l'anno di più Per sistemare un po' Quella Quella roba Quella roba Quella roba Oro Potrebbe servirci in futuro L'oro Sia mai che magari voglio Migliorare quella statua Sai potrebbe sempre servire Dell'oro Cioè tu mi stai dando il legno Adesso che io giustamente Oddio Ma sei bellissimo No 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 Fermi Fermi Qua non ci stiamo capendo Lei è bellissima Sei bellissima Sei bellissima Datevi un nome È uno spettacolo Aspetta Non prendere quello Mangia questa Che è meglio No 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 Attenta però Brava Brava Cicciolina Allora Tornando a scavare Datevi un nome Perché io a lei non ce lo voglio dare Perché white È già stato Altro oro Ma che Ma non l'ho ancora trovato l'oro Perché l'altro nome È già stato preso White È già stato preso Dal nostro cagnolino di fiducia E infatti Sarà suo per sempre Non glielo cambio Perciò datevi un nuovo nome A questo ragazzino E a questo punto Direi che Se riusciamo magari A passare alla fase 4 Si concluderebbe bene Almeno non ho più gli incubi Riguardo a quel robo lì Si fanno un gioco d'horror Con questa roba Veramente E io mi cago sotto E me ne scappo Dall'altra parte del mondo Però torniamo a scavare Ma cosa sta succedendo? Sto riunendo la famiglia E sto riunendo la famiglia Ma per forza Ma il fratello di White No No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fratello di White. Fratello di White. Buono, fratello di White. Buono, buono. Fratello di White. Buono, buono, buono. Buono, 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 buono. Allora. Ora te andrà insieme a White dentro casa mia perché sennò te in qualche modo me lo ammazzi. No. Passiamo da di qua. Fidati di me. Che almeno di qua non ci sono. vieni vieni piccolino allora la tua nuova casa sarà questa spero ti piaccia perché è fatta su misura per i cagnolini come te perciò ora stai lì allora forse non mi sono spiegato fratello di white che daranno un nome pure a te questo sito lo penso di avertelo spiegato a tuo fratello però allora non devi capire che devi restare qua dentro e non scappare bravo ho visto così ne possiamo anche parlare a mamma mia in tutti i casi aggressivi lupi contro le volpi non pensavo mamma mia li ha ammazzati in due mi sembra no no ok dove sono ancora vive qua abbiamo detto prima che entra questa fa il genocidio quello la allora quale piante sono cresciute qua abbiamo un po di materiali detto questo abbiamo fatto la statua dell'orrore a cui manca anche un pezzo di testa perciò la riprendiamo così si detto questo ragazzi con la nostra statua alle spalle che sembra più di un gioco horror che altro vi do una buona serata a tutti ci vediamo alla prossima ciao ragazzi